La provincia di Arezzo inizia il nuovo anno all'insegna della promozione del talento e della fotografia con la mostra fotografica di Valerio Colantoni, obiettivo natura, allestita presso i locali della mostra permanente della fauna selvatica della provincia di Arezzo, visitabile fino al prossimo 2 febbraio. Valerio Colantoni è un giovane fotografo della Valdichiana, sempre stato affascinato dalla natura in tutte le sue forme, in particolare dal micromondo degli insetti, dalla passione giovanile agli studi di agraria per poi concretizzare l'amore per la natura attraverso la fotografia a partire dal 2011. L'esposizione raccoglie una selezione di immagini curata dal fotografo stesso quasi esclusivamente macro, cioè della resa fotografica di un particolare infinitamente piccolo e ingrandito in maniera tale da essere facilmente letto, farfalle, libellule, insetti, fiori, tutto reso talmente vicino e dettagliato da non sembrare vero. Gli animali sembrano essersi messi gentilmente in posa per le foto di Colantoni, che altrettanto cortesemente li ritrae nella loro magnificenza, condovizia di particolari e nella loro luce migliore. La passione per gli insetti nasce fin da piccolo, proprio in tenere età, io abitando in campagna, mi sono ritrovato a condividere la mia infanzia giocando nel prato di casa. E quindi già lì c'erano diversi insetti dove all'inizio io mi divertivo solamente a catturarli, poi crescendo c'è stato anche, grazie anche a dei libri specifici, c'è stato diciamo uno studio più approfondito che è culminato diversi anni dopo grazie alla fotografia. In questi ultimi due o tre anni, grazie anche alla fotografia digitale, ho potuto immortalare tutta una serie di insetti che finora avevo solo nella mia immaginazione.